si sono vicino la picocca stanno bruciando una serra se potete venire subito facciate la picocca ma dove a Vittorio? no qua da casa qua alla picocca si si ma un attimo questa squadra è informata con l'intervento allora a Cate si di fronte dove alla picocca? si si è un'azienda agricola si va io va vabbè cosa vuoi vi aspettiamo qua alla picocca qualcuno dai però se potete mandarlo urgentemente la squadra vediamo come è messa ora la devo contattare abbiamo una stringente in corsa lei si chiama? se è una cosa veloce sennò si è due morcati di serra va bene ciao ciao